Un'altra notizia, 50.000 persone, la consueta grande festa di sport per vivi città, la manifestazione podistica organizzata dalla UISP, giunta la 36esima edizione e che si è disputata in 33 città italiane e 11 all'estero sulla distanza di 10 chilometri. 11.000 atleti al via nella gara competitiva, oltre 40.000 in quella non competitiva. Hanno vinto Samuele Dini in campo maschile e Isabel Mattuzzi tra le donne. Lo slogan di questa edizione era l'uguaglianza è in gioco.